No, fermi un attimo, fermi un solo secondo, perché di questa cosa dobbiamo assolutamente parlare, non possiamo far sfuggire questo momento di discussione, perché poi è sempre bello quando si creano questi momenti in cui possiamo approfondire determinate tematiche, perché o per un caso magari posso essermi spiegato male io, e quante volte mi capita di spiegarmi male un centinaio forse al giorno, o forse dall'altra parte non è stato recepito anche correttamente il messaggio, ci sono queste due linee di pensiero, a volte è l'incontro di queste due filosofie, ma ieri quando ho pubblicato il video in cui parlavamo del mese di ottobre che aspetta la Juventus e del mese di settembre che ha passato la Juventus, non si stava distruggendo niente, cioè non c'era nessun tipo di discussione dal punto di vista distruttivo, nessuno voleva distruggere la Juventus di Tecomotta, nessuno voleva sottovalutare quelli che sono stati... No, cerchiamo di fare un passettino indietro, cerchiamo di spiegare meglio quella che è la situazione. La Juventus ha scelto un percorso differente rispetto all'Inter e al Napoli, che sono le altre due squadre, se vogliamo, un po' più di riferimento per il campionato italiano. L'Inter è una squadra rodata, consolidata al quarto anno di guida tecnica di Simone Inzaghi, è una squadra che ha costruito seguendo quelle che erano le indicazioni e le linee guida del suo allenatore, è una squadra che ha vinto lo Scudetto, è una squadra che ha fatto una finale di Champions, è una squadra che ha vinto delle Coppe Italia e delle Supercoppe italiane, è una squadra con dei giocatori di livello di riferimento nazionale, internazionale, eccetera, 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 eccetera. Lasciamo da parte un attimo. Il Napoli è una squadra che ha scelto la scorciatoia Antonio Conte, perché Antonio Conte ha tutti gli effetti una vera e propria scorciatoia. Quindi si va su Antonio Conte, si sa che saranno dei cicli brevi ma intensi, si sa che vorrà dei giocatori di un certo tipo, i suoi uomini, quelli di riferimento, tant'è che l'anno scorso quando parlavamo dell'erede di Ozyman anche a Tutti in the Box o alla Vovotv, facciamo sempre solo il nome di Lukaku, la gente ci diceva ma non c'è qualcun altro oltre Lukaku, ma se prendi Conte sai benissimo che vai a fare quei tipi di investimenti lì, vai a prendere gli uomini che lui conosce, gli uomini che cercano anche un pochettino di accelerare quello che può essere il processo di crescita di una squadra. Quindi abbiamo due situazioni definite che sono Napoli e Inter. Poi c'è la Juventus che è una situazione in cui è andata a ridurre il monte in gaggi, a cambiare metà squadra, ad abbassare l'età media, a prendere un allenatore nuovo, un allenatore che a questi livelli non aveva mai allenato prima ma è una scommessa ed è una scommessa che si fa con fiducia. Quindi è ovvio che ai nastri di partenza la Juventus non possa essere considerata tanto quanto Napoli e Inter, perché da una parte c'è l'allenatore più vincente d'Italia in questo momento, Antonio Conte, e una squadra che, ripeto, al quarto anno di guida tecnica e chi ha già vinto e che è campione d'Italia in carica. Questo significa che la Juve non può competere per traguardi o non può competere con Inter e Napoli? Assolutamente no. No, perché se ci mettiamo qui a dire che le squadre che iniziano subito un nuovo ciclo non possano competere con le altre perché sono più avanti per questi motivi, non stiamo parlando di calcio, non stiamo parlando di sport, stiamo a volte anche mettendo le mani avanti. Che non significa che la Juve debba vincere, e subito. Assolutamente no, perché la Juve lo possa fare è un dato di fatto. Quando vi dico che per me il mese di settembre è stato un mese con degli errori, sto bocciando il progetto Tiago Motta, che sia chiaro, che sia limpida questa cosa qui, perché non può corrispondere al vero, non è quello che è nella mia testa, nemmeno quello che volevo comunicare. Vi ripeto, magari mi sono espresso male io, ma non significa che la Juventus abbia fallito, che adesso ci sia un disastro, che si stia preannunciando il disastro? Assolutamente no. Ma proprio per l'amor di Dio. Cioè sarebbe veramente non comprendere tutto quello che ha fatto la Juventus in questi mesi e come è arrivata questa situazione qua. Perché se la Juve arriva a questa situazione qua, lo fa con grande coraggio, con grande scommesse. Io torno a dire, per me gli unici due risultati sbagliati, possiamo dire così, della Juventus sono Empoli e Cagliari, dove mi aspettavo una vittoria per mettere un po' di fieno in cascina in vista di quello che invece è un mese di ottobre particolarmente tosto. Che non significa che la Juve debba ora vincerle tutte ad ottobre per recuperare a settembre perché sennò le tabelle... No, le tabelle non ci sono. E Tiago Motta ce l'ha insegnato, ce l'ha spiegato, ce l'ha ripetuto. Guardare giornata per giornata, giornata per giornata, giornata per giornata, ma non significa che il tifoso non possa sognare. Cioè, permettetemi, lasciatemi almeno sognare. Che non significa che, se poi il sogno non si concretizza, allora, torce e forconi, andiamo a fare la pubblica esecuzione in piazza di Tiago Motta, di Giuntoli, di quelli che sono. Non è questo il punto, eh ragazzi? Cioè, iniziamo a vivere anche il calcio magari in maniera un po' meno tossica e in maniera un po' più affettiva. Perché una squadra, un tifoso che sostiene una squadra, si augura sempre che andrà a vincere tutte le partite possibili a disposizione. E lo farò sempre, ci mancherebbe altro. Non arriverà mai un giorno a maggior ragione perché tifo Juventus, in cui non parto la stagione con la speranza di poter vivere un sogno, che può essere meno sogno quando hai già vinto otto scudetti di file in precedenza e quindi vincere il nono, vincere il decimo, diventa quasi normalità, che è un'eresia, è una follia, è una roba che va davvero contro lo sport, sia quando inizio una stagione che è 4-5 anni che non vinco lo scudetto e ci sono squadre che sulla carta, per un motivo o per un altro, sono più avanti. Ma non toglietemi la voglia di sognare. Il fatto che la Juventus dovesse vincere con Caglierempoli, al di là di tutto quello che è la rivoluzione, il progetto, la pazienza, perché bisogna avere pazienza, la crescita, tutto quello che volete, mi sento di dire comunque che sono due partite che dovevi vincere al netto di un mese di ottobre, che sarà particolarmente tosto, perché se in Serie A in un mese la Juventus, che sì, cambia metà squadra, prende Tiago Motta, bassa il Monte in Gaggi, non è obbligato a vincere lo scudetto, eccetera, eccetera, però se in un mese tra Empoli, Cagliari, Genua e Napoli fai una vittoria a tre pareggi, permettetemi di dirvi che comunque è troppo poco. Poi in Champions siamo stati strepitosi, meravigliosi, ma il fatto che la Juventus stia iniziando qualcosa di nuovo non mette la Juventus al riparo da quelle che devono essere delle critiche costruttive. Cosa intendo per critiche costruttive? Al di là del fatto dei punti, poi bisogna guardare le prestazioni, perché la prestazione di Cagliari non è una prestazione da un punto, è diversa da quella di Empoli. Quella di Cagliari è una prestazione in cui è mancato il colpo del K.O., e allora quella è una cosa da migliorare. E si collega a stretto filo, con un virlo conduttore veramente intrecciato, rosso, bellissimo, al fatto che la Juventus sta segnando troppi pochi gol, perché dopo sette giornate di Serie A la Juventus, che si ritrova con un ottimo comunque piazzamento in classifica, perché la Juventus da quel punto di vista non è nei disastri, anzi la Juventus molto bene, anche Napoli e Inter appunto non stanno spingendo, nemmeno quelle dietro, c'è sempre un po' una squadra che inciampa, che cade, cresce ai punti per strada, eccetera, eccetera. Però Juventus ha segnato dieci gol in sette giornate. Dieci gol in sette giornate sono pochi gol. E dire che dieci gol in sette giornate sono pochi gol, non significa bocciare il progetto, non significa fare dei video disfattisti, perché non è quello che ho fatto, ragazzi. Attenzione. Voglio specificarle queste cose, perché poi se no si va a finire che allora Toselli era disfattista a settembre. Non è così. Si è semplicemente detto che nel mese di settembre si è sbagliato. E io credo che questo sia un dato di fatto. Poi è ovvio che non si possano vincere tutte le partite sempre. Anche le partite magari un po' più facili sulla carta si possono perdere, si possano pareggiare. Succede sempre, sempre successo e sempre succederà. Non è quello il punto. In generale, se avessimo anche solo vinto la partita col Cagliari, sono davvero convinto che la Juventus oggi si ritroverebbe a respirare un'area diversa, ma internamente allo spogliatoio. Non pensiate che si dicano dopo il pareggio col Cagliari vabbè dai, abbiamo iniziato un nuovo ciclo, vabbè dai, abbiamo abbassato il monte in gaggi, vabbè dai, abbiamo abbassato l'età media, vabbè dai, il Napoli a Conte, l'Inter è andato avanti, noi abbiamo scommesso su Motta. Va bene così, non è così. Questo mettiamocelo in testa, perché non significa che dire A allora vada tutta dalla parte di A. Cioè, a volte si fa per parlare, per parlare bisogna toccare tanti argomenti, bisogna toccare tanti punti, e poi bisogna entrare all'interno delle analisi. Io non ho niente da rimproverare oggi alla Juventus, a Tiago Motta, sta facendo un lavoro, siccome è straordinario, Tiago Motta, a questo punto della stagione. È riuscito veramente a cambiare il modo di approcciare, di giocare la partita della Juventus, e basta guardare la partita, e si accorge qualsiasi tifoso che è stato fatto qualcosa, ci è stata messa a mano con la squadra, è un dato di fatto, ed è una roba anche banale da individuare. Poi entra in gioco tutto il resto, perché benissimo l'impianto, benissimo. Poi Tiago Motta l'ha sempre detto, ogni giorno bisogna migliorare, per essere migliori rispetto a ieri. Ogni giorno migliori rispetto a ieri. E questo bisogna dare pazienza, eccetera, eccetera. Però permettetemi che dal punto di vista puramente del calendario, con un ottobre che avremo, Tosto, Inter, Lazio, la Champions, un SIL derby, per me, per me, poi magari sbaglierò, in Serie A nel mese di settembre, si è lasciato indietro un po' troppa roba. Questa è semplicemente l'analisi, senza voler distruggere, ammutolire, disintegrare, denigrare, disastro, no? Non c'è il disastro, la Juventus è un progetto interessantissimo, è un progetto agli albori, è un progetto appena nato, è un progetto che per me è una figata, esco anche un pochettino, per me è una figata, il progetto della Juventus. Poi, ben consapevole del fatto che ci vuole tempo, ci vuole pazienza, gli altri hanno dei motivi in più per crederci, non toglietemi il fatto che voglio sognare, è che quindi determinate partite, se poi non finiscono nel modo in cui sulla carta dovrebbero andare, un pochettino di sangue amaro me lo faccio, ma ve lo torno a dire, non pensiate che i giocatori, Tiago Motta, la Juventus eccetera eccetera, dopo il pareggio di Cagliari si siano detti, vabbè dai, siamo all'inizio, non è così, perché anche l'anno scorso, che eravamo nettamente inferiori all'Inter come organico, non so quanto, c'erano delle distanze, però non so quanto nettamente, però va bene, ma anche quest'anno, per me, mica solo l'anno scorso, anche quest'anno, ma dal punto di vista dell'impianto tattico, l'anno scorso c'era una voragine, oggi invece dici, si può migliorare, arrivi a giocartela, magari anche in altri modi, anche l'anno scorso, i ragazzi ci credevano, quante interviste abbiamo sentito, a Gatti, a Rabiot, a Danilo, ma a Danilo forse meno, a Scesni, noi vogliamo vincere, noi vogliamo sognare, noi vogliamo arrivare lì, anche Allegri stesso parlava di sogno, d'accordo, va bene, mettetela come volete, chiamatelo come volete, però ci hanno sempre creduto, quando sei la Juventus, non puoi non crederci, stop, poi non significa, farlo non significa, che se pareggi col Cagliari è un disastro, no, non è un disastro, però è un passo falso, è un errore di percorso, è una cosa che dovrai migliorare, in vista delle prossime partite, semplicemente questo è, però, in generale, secondo me, se potessimo sottoporre, Tiago Motta, alla macchina della verità, ti direbbe, sì, probabilmente, nel mese di settembre, abbia lasciato indietro troppi punti, questa è la mia considerazione, in vista soprattutto dell'ottobre che abbiamo, spero di essermi spiegato bene, meglio, comunque, rispetto al video precedente, e quindi, vi invito, a fare la discussione, qui sotto nei commenti, ad arricchirla, perché, magari possiamo fare questa serie di botte e risposte, anche in vista di quello che sarà il ritorno, della Serie A, della Juventus, che poi sabato sera giochiamo a partita difficile con l'Alasio, è già lì, perché poi, la crescita, il percorso, la programmazione, la prestazione, il livello, la qualità, però poi tutto questo, si traduce in, tre punti, un punto, zero punti, che vanno ad aggiungerci alla classifica, per me la percezione della Juve oggi, è ancora, buona, buonissima, quasi ottima, poi ci sono delle criticità, abbiamo, una sorta di pareggite acuta, perché, perché segniamo ancora troppo poco, e da qui passa il miglioramento, attraverso le prestazioni, che può portare più gol, e quindi più risultati, come me, è semplice, lineare, banale, scontato, e quindi ora spero di averlo spiegato al meglio, ci vediamo nei commenti, ciao ragazzi.